La tensione altissima sotto la casa dove Eric Pribke sconta gli arresti domiciliari per la strage delle fosse ardiatine è stato organizzato un sit-in per ricordare quell'eccidio. Oggi, nel giorno in cui il braccio destro di Kapler compie 100 anni, qualcuno si presenta con un regalo. È il nipote dell'ex ufficiale delle SS condannato all'ergastolo per quelle 335 vittime, porta una bottiglia di champagne per festeggiare il compleanno del nonno. Davanti al cancello la polizia cerca di mantenere la calma. Qui ci sono tante persone della comunità ebraica ma non solo che la notte del 24 marzo del 44 hanno perso i loro cari. La situazione precipita quando il nipote di Pribke ha un contatto con una dei manifestanti. Ha dato un pugno ad una donna, grida qualcuno ed è il panico. L'uomo viene allontanato, gli agenti faticano a riportare la situazione alla normalità, alcuni indossano i caschi. In queste 335 persone c'erano persone che erano state rastrellate subito dopo l'attentato di Via Rasella, persone che erano incarcerate per motivi diversi a Via Tasso, soprattutto per motivi politici, ebrei. E queste persone sono state messe a disposizione di Kappler e di Pribke per essere poi uccise alle fosserdeatine. Sono il figlio di un caduto alle fosserdeatine. Di questa persona non mi è mai interessato nulla. Io mi sono sempre interessato alle lacune dello Stato. Questa persona è venuta prima del processo tre volte in Italia col proprio nome e cognome. Sono arrivate anche qui le notizie di Striscioni apparsi nella notte a Roma in solidarietà all'ex SS condannato all'ergastolo per l'eccidio delle Ardatine. E la rabbia è grande. C'è una bandiera italiana, Lara, a rappresentare un carnefice. Verdonna!